Un blog d'autore per scoprire i volti segreti di Napoli e non solo. È quello firmato da Antonio Tortora, scrittore, giornalista, indagatore nelle pieghe della storia. Dalle scale di Napoli ai percorsi nella natura, questo sito è una guida ragionata alle risorse del territorio. Particolarmente affascinante il viaggio tra pedamentine e stradine del centro di Napoli. D'effetto, infine, il video sull'arte nella natura, una sintesi da esplorare anche online. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS